Per la festa della liberazione, l'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza dell'Italia contemporanea ha organizzato per gli studenti abruzzesi una giornata di riflessione. Liberazione non è solo libertà, è il tema del momento di approfondimento che ha visto diverse iniziative come la rievocazione attraverso la lettura di alcuni brani del sacrificio dei nove martiri aquilani. Uccisi dalle truppe naziste con la riproposizione del libro I martiri aquilani del 23 settembre del 1943 pubblicato nel 55. Diversi gli interventi, tra questi quello di Fabrizio Pompei, regista e professore di storia dello spettacolo all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, con la conversazione Gianfranco De Bosio, Una vita per la libertà. I ragazzi hanno potuto vedere anche un celebre film del 63 in edizione restaurata, Il terrorista, diretto proprio da Gianfranco De Bosio. Molto importante conoscere la storia dell'Aquila, quella che non si legge sui libri di scuola, perché l'Aquila ha avuto un ruolo importante nella storia della resistenza e ha pagato anche un tributo molto alto in termini di perdite di vita umane. Fino a qualche decennio fa sembrava che anche il tema resistenziale fosse un valore nordico del centro nord Italia. In realtà l'Abruzzo, l'Ansio, tutta la zona della linea Gustav e soprattutto quella dell'Altosangro, quella aquilana e poi quella di Teatina, di Ortona, hanno sofferto terribilmente, perché qui appunto c'era la prima linea di difesa tedesca, appunto quella che è la linea Gustav, e quindi si combatte, si combatte, ci saranno le stragi. Il primo terribile episodio di questa occupazione che comincia nel settembre del 43 sarà il 23 settembre l'uccisione dei nove martiri aquilani.